Bravi, bella società di merda che siete, e ripeto, con voi tutti i tifosi del cazzo, i juventini tra virgolette che vi difendono, che attaccano, che critica sempre, in un mondo a livello calcistico, ok, che fa vedere e fa vendere Maguire, chi cazzo è Maguire, 85 milioni di euro, Grilish 115, Lukaku 115, ok, giocatori che non valgono un cazzo, e tu hai venduto, Delete, il difensore più promettente a livello globale, 23 anni, a 67 più 10 di bonus, che tra l'altro tu, con le commissioni e con, di fatto la cifra ufficiale con la quale hai comprato questo giocatore, hai pagato 85 milioni e l'hai venduto a 67 più 10, lasciate stare la plusvalenza che l'hai fatta comunque, non me ne frega un cazzo della plusvalenza, la plusvalenza non viene in tasca a me, come a voi tifosi, anche perché la plusvalenza è nell'immediato, ti fa avere dei benefici nell'immediato, ma alla fine la plusvalenza conta un cazzo se poi di fatto hai meno cash rispetto a quelli che avevi prima di comprare Delete, perché di fatto a livello di liquidità ci hai rimesso, non me ne frega un cazzo la plusvalenza, tu hai venduto sto giocatore di meno rispetto a quello che l'hai comprato, e questa è una roba vergognosa, e con 20 milioni in meno hai preso Bremer, per fare cosa il dispetto all'Inter, ma questo è un altro discorso che faremo quando ci sarà l'ufficialità di Bremer, perché è la solita mentalità di merda che ha questa società, hai venduto Delete per 67 più 10 di bonus, questa è una cosa vergognosa, 67 più 10, e ripeto, qua allora, mi avevano detto probabilmente in maniera errata che era stata fatta passare sta voce per sviare, per temporeggiare quant'altro dei 90 bonus compresi, e probabilmente effettivamente non era vero, però sotto l'aspetto che l'affare si era già concluso al primo incontro con Sanio Amisic, è vero, perché di fatto offrivano 60-65 milioni, credo che non è che in una settimana cambino per 2 milioni più i bonus, perché i bonus c'erano già prima, quindi lasciamo stare, e anche sul discorso che hanno temporeggiato, e probabilmente hanno fatto uscire invece la voce che non era concluso un cazzo, per far sì che la Juventus trovasse il sostituto di Matthijs De Ligt, che era Bremer, inizialmente era colibali, poi è diventato Bremer, voluto non da Allegri, ma dalla società, ma questo ne parleremo appunto all'ufficialità di Bremer, questo è una vergogna, e ieri ho capito perché l'avvocato di De Ligt ha detto eh siamo contenti, ringraziamo la Juventus, ovvio, ma ragazzi ma noi ci appecoriamo tutti, allora noi chiediamo di giocatori, ci sparano cifre, quando arrivano da noi a prendere i migliori nostri, li svendiamo, perché anche Pogba è stato svenduto, Pogba quando l'abbiamo venduto la prima volta, 105 milioni sto cazzo, perché 76 milioni tu hai incassato, e 20 milioni se li hai incassati Raiola, eh, di commissioni, il procuratore, altro che 105 milioni, 76 milioni, eh ma hai fatto una plusvalenza netta, ma a me ne frega il cazzo se poi ti indebolisci a livello sportivo sul campo, perché voi in Europa e a livello, cioè a livello europeo voi non ci pensate, voi pensate allo scudettino, abbiamo indebolito l'Inter, così, cioè non abbiamo fatto rinforzare l'Inter, quindi gli abbiamo scippato il giocatore che poi bisogna vedere, Bremer, ma questo è un altro discorso che faremo, vedremo poi appunto all'ufficialità e tutte queste belle cose, voi pensate sempre all'Italia, ma ragazzi ve l'ho detto io l'anno scorso, quando le cose andavano male, la Juventus tornerà il prossimo anno a vincere lo scudetto, poi magari non sarà così, però sono sicuro che sarà così, magari non quest'anno, ma magari il prossimo anno, perché la Juventus sta semplicemente ammortizzando il problema di questi due anni che sappiamo tutti cosa è successo, ok? E poi una volta ammortizzato a livello economico questo problema, la Juventus fattura comunque di più, ha più entrati di tutte le altre in Italia e tornerà a vincere lo scudetto, ma non ci vuole Allegri, non ci vuole Di Maria o Pogba per tornare a vincere lo scudetto in un campionato che è come l'MLS europea, equivale al campionato americano, il campionato di Serie A in questo momento qua, è alla pari della Ligue 1, il campionato francese, è inutile vantarsi, abbiamo preso il miglior difensore della Serie A, di questa Serie A, non è che hai preso Nesta, Cannavaro, quando la Serie A valeva qualcosa 20 anni fa, hai preso Bremer, che ha fatto un anno buono, come Vlaovic, è stato saltato per un anno e mezzo buono a Fiorentina e l'abbiamo preso, perché qua, io ripeto, in Italia io non farei mai mercato, mai mercato, perché qua si tende sempre a sopravvalutare ogni cazzo giocatore e a svendere i giocatori che magari a livello europeo promettono di più, perché hanno fatto tre stagioni di merda, perché De Litt ha fatto tre stagioni di merda con noi sicuramente, ma in un campionato, in una squadra che era in fase calante, in declino, la Juventus, era fase in declino, io avrei voluto vedere De Litt nella Juventus che è andata a Berlino, nella Juventus che è andata a Cardiff, nella Juventus che ha vinto un po' di scudetti consecutivi, lì l'avrei voluto vedere, e avrei voluto vedere Scrinia, Bremer, Koulibaly che avete tanto esaltato, nella Juventus di questi tre anni, avrei voluto vedere questi difensori cosa avrebbero fatto in questa Juventus di merda qui. Allora, sulle cessioni, quando andranno via i giocatori darò il voto, e do il voto sugli anni che hanno fatto alla Juventus, e il voto sulla cessione della società Juventus. Allora, al giocatore, a Matthijs De Litt, per quello che è stato comprato, per quello che prendeva e per quello che ha dimostrato, gli do 5, senza se e senza ma, perché sono onesto. Alla società, per questa cessione, da 67 più 10 di bonus, che poi magari, per carità, uno mi può dire, sì ma magari gli hanno fatto sto favore, poi magari il Bayern Monaco ci farà un altro favore, sì, ma sicuramente non per i suoi top player che ha. De Litt era uno dei top player a livello mondiale, non solo da Juventus. Sicuramente non ci svenderà, cazzo ne so, Gnabry, faccio un esempio, che ha rinnovato. Non ci svenderà questi giocatori qua. Non ci svenderà Kimmich. Magari ci darà povardo, magari in futuro. Oh, cazzo, che acquistone. Che l'hanno sbolognato. Cioè, l'hanno messo in panchina adesso. Perché farà la panchina. Comunque, voto a questa cessione, da parte della società, 4. 4. Perché l'hai ceduto di meno rispetto alla cifra che hai speso per comprarlo. Questa è una cosa vergognosa. Questa è una cosa vergognosa. E il tifoso di Juventino che dice il contrario, è in mala fede perché ama la società e non ama i colori. Ama la società, non è ambizioso. E siete poco ambiziosi. Io lo sono, invece. Perché quando c'è da dire qualcosa di buono in questa società, l'ho detto a gennaio, andatevi a vedere. Vedo qualcosa di positivo. Ma lo continuo a dire, sicuramente anche per quello che mi riportano. A livello nazionale la Juventus tornerà fuori. Si faranno dei tagli stipendi. Quello che mi era stato detto un anno fa e lo stanno facendo. L'abbassamento un po' dell'età, qualcosina, lo stanno facendo. Anche se comunque c'è il problema Allegri. Tante altre cose vengono fuori. Ma il problema è che a livello nazionale non serve tanto, serve poco. Perché la Juventus è la società che fattura di più, che è più organizzata, che ha più incassi, che è più conosciuta in questo momento a livello italiano in giro per il mondo. Ed è normale che la Juventus tornerà dopo aver ammortizzato questi due anni, che sappiamo tutti appunto la crisi economica che c'è stata, avendo avuto comunque i 30 anetti l'anno di Ronaldo sulle spalle. E tornerà, una volta ammortizzati questi costi, tornerà, e soprattutto un po' elasticizzati, o come cazzo volete dire, tornerà a vincere i scudetti. Una volta che tornerà fuori da questa, diciamo, cozzaia di merda. Ecco, diciamo così. Tutto lì. Non ci vuole una scienza per fortunare la Juventus se vince lo scudetto, che è comunque la società che fattura di più, che è comunque la società più organizzata o meno disorganizzata, e meno mediocre a livello italiano. Vabbè, comunque, questa è una roba vergognosa. Questa è una roba veramente vergognosa. Comunque, sul discorso di Elite, di quello che mi hanno detto la settimana scorsa, hanno sbagliato solo le cifre, ma di fatto il ragionamento filava. Infatti, poi, e le informazioni li filavano, probabilmente, sul discorso cifre, magari gli hanno detto anche a loro di far uscire cifre diverse. Vabbè, comunque, all'idea di questo, e giustificazioni diverse. Questo è il quanto. Quindi, voto ad Elite per i tre anni alla Juventus 5, voto di questa sessione alla Juventus 4. Ok? Buongiorno a tutti, ci vediamo per il prossimo video, probabilmente l'ufficialità di Bremer domani, che dovrebbe essere a Torino per le visite mediche, la firma. E niente. Ma, vergognati. Vergognati e basta, perché questa è una presa per il culo, eh. Ogni volta ci pieghiamo 90 con tutte le società europee. Noi andiamo a chiedere un giocatore... Pau Torres, no, faccio un gioco. Pau Torres, vai a chiedere. 50 milioni, no, prendiamo paura. Non è che chiediamo 40 più 10 di bonus. Vi offriamo 40 più 10 di bonus. Magari cerchiamo di andare... No, 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 no. 50 milioni, basta. Prendiamo paura, torniamo indietro. Questo è il ragionamento che fa la società. Quando... Il bello è che poi è mai da fastidio un'altra cosa. Allora, quando noi dobbiamo acquistare... La maggior parte delle volte la cifra che andiamo a spendere è maggiore rispetto a quella che circola. Quando invece noi andiamo a cedere, Di solito la cifra che incassiamo invece è inferiore rispetto a quella che circola. È una roba allucinante. Una roba allucinante. Vabbè. Buona giornata a tutti.